Quando sono arrivata oggi al final table avevo 1.100.000, ero chip leader, il secondo aveva 300.000, abbiamo iniziato in 8, ho giocato abbastanza chiuso ai primi livelli aspettando che i corti uscissero, dopo di che rimasti in 5 ho iniziato a spingere un po' di più, sono salita in chips, poi purtroppo mi sono scontrata con un altro giocatore, io asso Jack e lui asso asso nella guerra dei bui, sono scesa tanto a 10 bui, poi sono riuscita a fare double up, sono risalita, 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 eravamo rimasti in 3, eravamo tutti e 3 con lo stesso numero di fish, e poi sempre con lo stesso giocatore ci siamo scontrati con la guerra dei bui, lui asso cappa, io asso donna e ho perso questo colpo al 30% e sono uscita purtroppo. Comunque è stata una bella esperienza, mi sono divertita, ho giocato molto bene per tutto il torneo, ho sbagliato una mano contro il giocatore chiuso che adesso è chip leader, e per il resto però sono contenta del torneo che ho fatto, ho avuto fortuna, ho giocato bene e meritavo di vincere, però poi purtroppo gli errori li ho fatti anch'io e quindi non sono stata abbastanza fortunata da quel punto di vista.